Tre giorni rossi per quanto riguarda Bitcoin, più uno verde che però è quello della domenica, quindi vale praticamente come il sabato e quindi pump and dump sabato e domenica che quasi è insignificante, i prezzi poi si sono riandati a posizionare più o meno alla stesso livello di chiusura del venerdì. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, una serie di cose molto importanti da andare a vedere nella giornata di oggi tra le quali ci sono il calendario economico con i dati attesi perché mercoledì c'è la riunione del PONC americano per quanto riguarda la decisione dei tassi che comunque è scontata ma quello che non è scontato è quello che sarà il discorso del presidente Powell, cioè quello che dirà, le parole che dirà potrebbero esserci delle differenze eccetera sull'attesa per esempio di quello che è la fase di controllo del tasso di infrazione che è un po' addestato qualche preoccupazione perché il dato della scorsa settimana era negativo. Per quanto riguarda Bitcoin, nel video che vi avevo mostrato per quanto riguarda l'indicazione molto delicata del fatto di eccesso di rialzo da parte del re delle criptovalute dovuto appunto al mio indicatore preferito, quello che misura appunto l'eccesso, ve l'ho mostrato nel video della scorsa settimana, e Bitcoin si sta andando ad annoiare tra virgolette come avevamo appunto ipotizzato in quel video e tendenzialmente avvicinandosi a una zona ribassista quindi con un laterale leggermente ribassista per accettare un po' questi prezzi che effettivamente sono saliti tanto. Nel grafico invece daily si può vedere anche quello che è la tenuta delle due medie mobili di breve periodo che raffigurano in questo caso un baluardo di supporto, cioè l'ultimo baluardo di supporto all'inversione di trend di breve periodo per quanto riguarda Bitcoin. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, è un video molto bello questo qui ragazzi perché andremo a guardare una serie di dati che secondo me sono anche molto significativi perché andremo ad analizzare anche la fase di stop per quanto riguarda, chiamiamola così, stop diciamo alleggerimento, chiamiamola così per quanto riguarda dei flussi di capitale che sono entrati in Bitcoin e quindi si inizia anche a vedere la correlazione presente tra questi dati, per esempio quelli legati appunto ai flussi del ETF flow table per quanto riguarda Bitcoin in milioni di dollari e come questi flussi stiano rallentando e abbiano sostanzialmente causato una fase di ritracciamento dei prezzi che poi è una fase di respiro in questo caso. Poi analisi ciclica, analisi tecnica di questa struttura e badaboom, un paio di grafici che volevo farvi vedere tra i quali questo che è il grafico con lo spread Bitcoin contro NASA 100 importantissimo a livello ciclico, molto significativo e poi un dato di breve periodo, un grafico settimanale che pur se è settimanale in questo caso noi useremo in breve periodo per andare a definire i livelli di supporto per questa settimana, la settimana che inizia proprio oggi 18 di marzo. Prima di andare avanti ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e poi sì ovviamente chiaramente ragazzi lasciatemi mi piace per questi video ovviamente molto molto lavorati, io qui vi rassumo tante cose ma è da questa mattina prestissimo che sto ragionando su questo video andando a analizzare veramente con 1 ore una serie di grafici prima di dirvi delle cose, quindi non sono video così semplici come quello che possono sembrare al primo acchitto. Allora andiamo a vedere per quanto riguarda il calendario economico, si è sfasato un po' il grafico, ok? E andiamo subito a inserire tutti i miei filtri per vederli in maniera chiara, tra le altre cose, ok? Oggi investing tra le altre cose sta dando un po' di problemini da questa mattina. Allora, primo dato uscito per quanto riguarda la questione europea, inflazione in Europa attesa al 2,6 e quindi conferma la previsione però è in discesa dal precedente dato, quindi continua la fase di discesa quasi al target ma non ancora sotto controllo. Quindi per quanto riguarda la banca centrale europea sicuramente il compito è stato più facile rispetto a quello previsto e rispetto a quello che la banca americana sta facendo. Poi di una giornata di domani non c'è assolutamente nulla, martedì 19 marzo, mentre mercoledì ci sono una serie di dati che potrebbero causare assolutamente movimenti sul mercato, tra i quali la decisione del tasso di interesse della banca centrale europea americana, definito ovviamente standard, quindi stabile, per la previsto stabile, ma soprattutto la decisione del PONC e poi la conferenza stampa ore 19.30, orario standard, ragazzi. Adesso non so se questo è orario GMT più 1, esatto, ok, perché sono fuori, quindi non so, non mi ricordo se l'avevo modificato, esatto. Detto questo, in pratica vi faccio vedere quelli che sono i dati relativi all'attesa del tasso di interesse, 99% sconta che il tasso rimarrà costante a marzo, ma praticamente lo fa anche a maggio quasi sicuramente, mentre da giugno si configura una duplicità, quindi qualcuno dicono che può scendere il tasso, può restare uguale, mentre da luglio, diciamo, le questioni vanno più verso una discesa del tasso, per se si sommano queste percentuali. C'è da dire che queste previsioni cambieranno drasticamente, secondo me, dopo i PONC e dopo i dati successivi al tasso di inflazione, quindi vanno considerati tanto e non quanto, secondo me solo marzo e maggio possono essere considerati. I tassi di interesse non scenderanno come previsto a maggio, questo è il dato che, secondo me, impatta a livello di liquidità. Nel mercato delle cripto, quindi bitcoin in particolar modo, non abbiamo in nessun modo subito questa fase di non abbassamento dei tassi, perché in sostanza abbiamo calcato l'onda degli ETF e dell'incremento del capitale degli istituzionali nel mercato delle cripto, quindi abbiamo utilizzato sostanzialmente quello. Il Nasdaq 100 neanche però ha subito questa forma di fase di bassista. Tra le altre cose dovrebbe aver chiuso, potrebbe aver chiuso un ciclo trimestrale a brevissimo che lancerebbe appunto una nuova possibilità di una fase di rialzo. Io inizierei a fare molta attenzione ai mercati classici, ragazzi, perché i tassi di interesse sono molto alti e probabilmente saranno alti per un bel po' di tempo. Prima o poi qualche effetto a livello economico lo genereranno, soprattutto a livello di recessione e a livello di bolla immobiliare. Ci sono tante questioni da andare a verificare, c'è la problematica con le banche commerciali americane che in questo momento non stanno più ricevendo flussi dalla Fed, eccetera. Insomma, un'eventuale inversione di questo trend deve essere presa assolutamente con grande serietà perché siamo, tra le altre cose, su dati storici per quanto riguarda gli indici di borsa classici altissimi e ovviamente siamo anche in una fase in cui i price-to-earnings, per esempio, di Standard Pulse 500 e Nordic 100 sono ben più alti della loro media, questo significa che il mercato classico è carissimo e che i rendimenti futuri dovrebbero essere sostanzialmente più bassi rispetto a quelli che sono stati visti negli scorsi decenni. Questo significa che o crollano questi mercati oppure si mantiene poi un rendimento troppo basso ma vedremo, insomma, ovviamente qui ci sono tanti giochi di potere che si vanno a verificare tanti manipolazioni che si vanno a verificare, quindi fare previsioni è veramente difficile il grafico ok, però il resto è veramente una scommessa. molto imponenti fatti dalle banche centrali che magari non vogliono essenzialmente va bene, detto questo, ragazzi, passiamo all'altro dato quello che riguarda invece i dati del mercato delle criptovalute ed è il più importante, c'è e stiamo assistendo a una fase di rallentamento per quanto riguarda il dato dei flussi di bitcoin allora abbiamo assistito in pratica negli ultimi due giorni a dei flussi che si sono ridotti sensibilmente rispetto a quelli che avevamo avuto nei giorni precedenti, quindi tutto marzo eccetera ora, questi due giorni non fanno testo perché anche precedentemente lì avevamo avuti in questa fase però bisogna ricordarsi che comunque ora sono quasi tre mesi di accumulo che avviene su bitcoin per quanto riguarda il dato sull'ETF perciò una fase di riposo anche della fase accumulativa degli istituzionali non è una cosa da non tenerne, non prendere in considerazione anche perché sono avvenuti diciamo veramente tantissimi accumuli di bitcoin in questi mesi perciò dovesse fermarsi questo accumulo o diventare irrisorio come per esempio 1-2 milioni che circolano al giorno o insomma diventare molto più basso di quello che è stato negli ultimi periodi, a quel punto dovremmo poi verificare dovremmo poi verificare se questo trend è sostenibile o meno per quanto riguarda il mercato delle criptovalute per quanto riguarda bitcoin e questo sarà certamente un altro dato molto importante da andare a visualizzare anche a livello grafico per comprendere il comportamento eventuale di bitcoin ad una fase di rallentamento della buy e quindi della domanda degli ETF domanda che ha avuto assolutamente grande corso perché dall'approvazione che è arrivata in questo punto noi abbiamo assistito sì a una fase iniziale di crash dovuta alle vendite di grayscale che vendeva appunto molti hanno venduto la grayscale ma poi abbiamo subito una fase up dai minimi che è andata in pratica a toccare il 91% tutta questa fase è stata sostenuta da domanda e da accumulo istituzionale quindi non è legata ad un pump solo ed esclusivamente emotivo c'è però una variabile di natura emotiva perché se andiamo a considerare la totalità della market cap acquistata dagli istituzionali è detenuta negli ETF di bitcoin non corrisponde all'aumento di pricing perché l'aumento di pricing è comunque maggiore è stato comunque maggiore rispetto a quello che è l'entità di acquisto da parte degli istituzionali questo significa che c'è stata una doppia relazione sia l'aumento di domanda e quindi gli acquisti maggiori sia l'enfasi e quindi la parte emotiva dovuta proprio agli acquisti e ha spinto ulteriormente il prezzo che altrimenti si sarebbe dovuto fermare se non erro intorno a una zona più bassa dopo i 60.000 dollari ma non sopra quindi non ho fatto i conti precisi però è in pratica salito un bel po' di più rispetto a quello che è la sola influenza di natura fondamentale della domanda questo è normale che avvenga perché comunque c'è un effetto riflessivo da parte dei prezzi che salgono mentre viene fatto un acquisto e quindi ovviamente i trader, gli investitori tutti entrano sul carro insomma c'è un classico effetto riflessivo dei prezzi niente di anomalo, niente di strano, tutto assolutamente logico e assolutamente normale per quanto riguarda questa fase allora la struttura dei cicli mensili di bitcoin qui non si vedono molto bene questi cicli mensili a meno che non siano perfettamente semplici e standard da 30 giorni se fosse così qui mancherebbe un'altra settimana a chiudere questo ciclo di bitcoin e a questo punto non mi viene da pensare che se siamo in una fase ciclica mensile il mercato riesca a fare nuovi massimi in questa fase bensì prima andrà a chiudere questo mensile che dovrebbe essere chiuso questa settimana quindi alla fine di questa settimana e solo dopo probabilmente potrebbe tentare una nuova fase di up quindi dal mio punto di vista se qui è iniziato effettivamente un nuovo ciclo che va a chiudere il mensile entro 8 giorni non c'è molto spazio per vedere nuovi massimi la salita verso nuovi massimi seppur vincoli non ce ne sono ragazzi però la salita verso nuovi massimi io la propenderei solo esclusivamente come inizio di un nuovo ciclo maggiore essendo qui a 54 giorni o qui stiamo facendo una struttura di metà trimestrale molto lunga che però ci potrebbe stare oppure qui questa settimana continueremo un po' ad avere problematiche oppure a subire diciamo una natura laterale di bitcoin attenzione che non serve fare nuovi minimi cioè non abbiamo la necessità che questa zona venga a forza breccata basta anche un laterale all'interno di queste zone e via di lì tra le altre cose questo livello di minimo non è neanche tanto basso perché è 64,780 quindi 65 mila dollari dista veramente poco dei prezzi attuali molto difficile fare previsioni ovviamente da qui a pochi giorni e logiche di questo tipo non hanno neanche senso perché a meno che non siate trader intraday o scalper eccetera non serve a niente ragionare su queste cose comunque non sarebbe questo il grafico da guardare se siete intraday ma dobbiamo guardare grafici a time frame più basso in quel caso per quanto riguarda invece la struttura dell'analisi tecnica ci dice che questa media mobile a 11 periodi è molto importante perché un'eventuale perdita del livello di supporto con un break consistente quindi non solo un leggerissimo break ma un break che va al di sotto di questa media sancisce o potrebbe sancire una fase di ribasso più prolungata vi faccio vedere e vi faccio presente anche che la precedente fase di ribasso più importante che ha avuto bitcoin è durata qualche giorno una decina di giorni se non erro ed è stata di circa 21 punti quindi se dovessimo andare ad agire in base a questo tipo di struttura ribassista dovremmo arrivare vicino ai 58 mila dollari secondo me questa fase di ribasso è una fase di ribasso che potremmo avere solo ed esclusivamente a chiusura del ciclo trimestrale attuale che al momento secondo me non è proprio in fase di close è importante ricordare che tra le altre cose qui siamo in una struttura ciclica di un annuale corto è iniziato il 11 settembre che probabilmente è più definibile come un semestrale molto lungo comunque è una forma ternaria anomala ciò significa che l'attesa di chiusura di tutto questo movimento se ne va tra giugno e fine luglio ai primi di luglio del 2024 in pratica è come se noi avessimo un po' di timing ancora per tentare nuovi massimi ma poi dovremmo andare a fare più o meno un movimento di respiro e di pausa solo in quel contesto io mi posso anche attendere un ribasso di oltre 20% quindi di una levatura maggiore secondo me per un semplice mansile può bastare anche di meno quindi un ribasso inferiore come può essere per esempio intanto questo è stato di 13 punti percentuali quindi giù di lì 13-14 è anche sufficiente non è neanche tanto basso quindi va benissimo solo quindi un chiusura di un ciclo più imponente mi farebbe preoccupare per un ribasso di un certo livello certo è che questa fase se deve partire un ultimo un nuovo ciclo mensile da questa fase qui non deve durare tantissimo cioè deve starci un po' può durare anche nella prossima settimana perché qui in questa settimana siamo sui 30 e passa giorni ma può durare anche 40-42 quindi può durare un pochino di più però non mi aspetto grandi movimenti ribassisti quindi anche il rimbalzino di questi giorni ci sta alla grande perché dobbiamo magari prepararci per fare un po' di trading range un po' di ribasso così e quindi più aria prendiamo più spazio prendiamo meglio e attenzione perché invece la chiusura di questo movimento che potrebbe avvenire questa settimana o la prossima dobbiamo starci appunto sul pezzo e andare a guardare giorno per giorno a quel punto potrebbe lanciare un nuovo ciclo che a quel punto potrebbe anche fare nuovi massimi e quello secondo me potrebbe essere strutturato perché poi da lì in poi bisognerà vedere quell'eventuale trend se ha mezzi per essere sostenuto ancora oppure poi si va a chiusura di questo movimento centrale quindi i giochi sono fatti per una buona parte dell'anno secondo me poi bisognerà attendere il post-halving vi ricordo anche la serie storica passata il post-halving che riprenderemo nei prossimi video perché voglio farvi un video dove riprendiamo appunto la questione dell'halving che effettivamente abbiamo fatto un massimo pre-halving e quindi si va a configurare una serie storica particolare di cui vi ho già parlato nella mia live quando parlavamo appunto dell'halving andiamo agli ultimi due grafici velocemente questo grafico che è lo spread tra Bitcoin e Nasdaq 100 è molto significativo in termini di analisi ciclica ha anche una view abbastanza evidente allora qui intanto mostra i cicli come vi dicevo annuali lunghi, annuali cortissimi, semestrali lunghi chiamateli come volete in ogni caso la struttura è una forma di natura ternaria che probabilmente configurerà due annuali uniti a forma ternaria questa apice qui non è bello perché non è bello? perché configurerebbe in questo caso anche una possibile fase di app raggiunta proprio per questa forma ciclica qui perché non c'è niente di strano non è ancora detta l'ultima parola nel senso che anche intorno ad aprile noi possiamo comunque fare la fase di massimo mese in cui io mi aspetto maggiormente un punto di massimo di Bitcoin se lo fa proprio a cavallo del mese di aprile sono più contento perché si vanno a configurare una serie di conferme anche da analisi ciclica di natura inversa e quindi è più facile agire a livello di trading però i mercati non sono così facili molto spesso proprio le analisi più semplici le analisi più confermative le vanno a imbrogliare perché ovviamente altrimenti avremmo un Bancomat sotto mano quindi bisogna sempre considerare delle alternative perché le alternative spiazzano quasi sempre i trader e i mercati in generale e in questo caso l'alternativa è solo una cioè il massimo è stato fatto e da qui andiamo a chiudere tutta questa struttura ciclica verso giugno-luglio detto questo attendo ancora perché non ci sono dati non c'è una fase di bassista non c'è pronunciata non c'è nulla al momento però il dubbio iniziamo a porcelo perché vi ripeto i mercati spesso e volentieri vanno a anticipare e a imbrogliare le carte quindi qualora fosse un massimo ad aprile siamo tutti più contenti e più facile quel tipo di lavoro in termini anche di cavalcare poi eventualmente tutto quello che potrà avvenire successivamente ma in fase invece di anticipo potrebbe essere avvenuto anche un massimo proprio qui e quindi andare poi a chiudere tutta questa struttura è un po' lunghetta non me l'aspetto così tanto però vediamo anche il collegamento con le questioni del flow degli ETF se diminuiscono o non diminuiscono ovviamente si parla di fase di attesa perché da questo punto in poi dalla chiusura di questo movimento in poi potremmo avere un'ulteriore fase di spunto e non sarebbe neanche l'unica hype perché poi la successiva alla fine della chiusura del biennale dovrebbe essere l'ultima parte della bullrun quindi quella che avviene nel 2025 ma di questo ci sarà tempo ovviamente ne parliamo perché prima bisogna capire che cosa fa il mercato vi faccio vedere anche come a livello di grafico di spread nonostante i massimi di bitcoin non siamo riusciti a ottenere nuovi massimi rispetto a Nasdaq 100 questo ci indica una cosa il ribasso di bitcoin del 2022 è stato così pronunciato che nonostante tutto non siamo riusciti neanche con questa fase di alzista a recuperare tutta la strada persa dai massimi del 2021 di marzo 2021 perché a novembre non avevamo fatto nuovi massimi in questo caso rispetto a Nasdaq 100 questo configura ancora Nasdaq 100 come vincente dal marzo 2021 non da tutti gli altri periodi però dal marzo 2021 è ancora forte questo significa che c'è ancora tanta strada qui da fare il livello tra gli altri costi di resistenza che è stato toccato è anche molto importante perché è un livello in questo caso il numero non serve ragazzi perché è uno spread quindi non può essere tradato è solo il livello geometrico che andiamo a guardare a livello di forma grafica di trend questo grafico qui e ci dice che comunque questa zona è una zona che ha creato un po' di resistenza e anche la successiva è qui secondo me solo al superamento di tutta questa struttura Bitcoin a quel punto entrerà in una vera boom run finale con i classici giochini di euforia pesante insomma che riguardano le crypto allora lì magari si possono fare i numeri ma bisogna stare anche molto 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 attenti va bene ragazzi allora passiamo ai dati relativi invece ai livelli di supporto che vi avevamo promesso per la fine del video e per questa settimana valgono questi dati allora la settimana in questione la scorsa come da anticipazione nell'ultimo video che avevo fatto venerdì ha purtroppo creato una evening star e quindi ha creato una candela di analisi tecnica teoricamente di inversione di trend se venisse confermata il breakout del minimo a 64.500 dollari al di sotto di 64.500 dollari si va a configurare una candela di inversione di evening star che configura un'inversione di breve periodo poi bisognerà vedere e comprendere quanto, come, dove se avvenissero cose del genere invece il mantenimento dei prezzi per questa settimana all'interno del range di questa candela della settimana scorsa che va dal massimo al minimo configura una lateralizzazione con un nulla di fatto e niente di niente che ci possa andare a creare problemi quindi non è un grave problema una cosa del genere se rimaniamo all'interno di queste bande di oscillazione il superamento ovviamente dei massimi configura invece l'annullamento del segnale della evening star e quindi configura questa candela come candela di riposo ma non di inversione perciò nulla da preoccuparsi continuerebbe il trend che abbiamo visto vi ricordo che anche qui è avvenuta un evening star e guardate come è andata a finire nella settimana successiva con più 22% quindi questo è giusto per comprendere il concetto che c'è dietro all'analisi tecnica una evening star quindi una candela di indecisione di massimo questa non era molto pronunciata questa è più pronunciata è più una evening star questa era più una candela inside quasi perché non ha rotto molto il massimo in ogni caso poi se non abbiamo la conferma è sempre sbagliato prendere assumere delle posizioni unilaterali perché il trend va seguito quindi qualora ci fosse una ripresa del trend che magari si va a configurare con un breakout di questi massimi questa poi ci spara un siluro da più 20% così come è stato qui con grande tranquillità al contrario questo livello più ci avviciniamo alla fine della settimana a questo livello dei 64.500 peggio è perché si configurerebbe un rischio molto importante di un breakout con scialacquone classico e liquidazione con lo stop di una serie di long il livello invece di resistenza il primo è dato dai 65.000 poi c'è questa zona ribassista qui che è 64.500 e poi inferiore a questa abbiamo i 63.000 dollari e l'ultimo è a 59.200 attenzione perché a livello proprio di scialacquone qualora questo venisse rotto il livello dai 63 l'ultimo baluardo rotto quello entriamo in questo spiazzone scendiamo a 60 quindi a quel punto dobbiamo prendere poi anche in considerazione l'eventuale fase di una chiusura già iniziata magari della logica del trimestrale eccetera quindi dovremmo prendere in considerazione altre fasi cicliche però questa zona prendetela in considerazione è un livello di supporto importante e potrebbe essere interessante potremmo anche assistere al classico fake breakout con ritracciamento all'interno della settimana perché? perché il breakout di questo livello deve avvenire ovviamente in chiusura della settimana ovviamente è molto facile creare manipolazione in questo contesto e soprattutto non si può operare aspettando la chiusura di questa settimana quindi non sono non siamo lì a dire ok aspettiamo non è possibile bisogna prendere la direzionalità prima e attendere poi il segnale se il segnale avviene siamo a cavallo altrimenti bisogna proteggersi con stop eccetera quindi quella è tecnica proprio di trading non si può fare con l'attesa del segnale come da usanza di analisi di tecnica classica si diceva aspettiamolo chiusura in conferma sì bello tutto bello ma nel mercato reale una cosa del genere è ingestibile soprattutto su bitcoin guardate qui la segnale di conferma è avvenuto 20 punti sopra quindi ok sì dopo è salito ancora ma è follia il rischio assunto in una cosa del genere quindi questi segnali vanno visti ma poi vanno saputi gestire in termini di analisi tecnica altrimenti non hanno senso però questi livelli qui sono i veri livelli di supporto anche un buy in questa zona se dovessimo arrivarci tipo domani martedì o una cosa del genere e abbiamo tutta la settimana per poter ritracciare questa fase di bassista potrebbe essere ghiotta quindi attendere qui poi un segnalino di inversione e dire ok stanno cercando di fare una manipolazione ci risalgo e poi mettere lo stop ovviamente a protezione è una trade interessante sarebbe anzi quasi quasi lo faccio ragazzi se avviene una cosa del genere quasi quasi lo vado a fare anche io così poi vi dico come è andata a finire bene per oggi è tutto buon inizio settimana e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti